Come mai il pubblico dovrebbe ripescarti? Perché assolutamente la poesia è parlare con il cuore, mettere emozioni, mettersi in gioco e condividere con gli altri e quindi assolutamente speriamo di avere davvero un talento, perché no, è assolutamente... Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al post originale del video oppure condividilo.